La persona che vedete al mio fianco si chiama Clara, si chiama Clara Zanardi, guarda un caso, ha anche il mio cognome, quindi diciamo che io conosco un po' il suo passato, quindi non vi parlerò io del suo passato perché già in qualche modo lo conosco. Lo conosco da molti anni, ma facciamo sì che ne parli direttamente lei e in questo modo così ve la presento e la sentite anche parlare. Poi diremo qualcosa di più anche su di lei andando avanti. Allora, Clara Zanardi. Buongiorno. Buongiorno a tutti. È un onore essere ospite di questo canale che seguo da lontano nei suoi percorsi. Sì, io abito a Venezia da più o meno 12 anni, quindi l'ho vissuta prima come studente e poi ho provato a vivere anche in realtà metropolitane più grandi, ma ho deciso di tornare a Venezia e di vivere qui per un legame che sentivo con la città e per una scelta di una forma di vita diciamo a dimensione umana in una città che non fosse troppo grande e quindi in una città di cui si percepissero i confini che fosse in rapporto stretto con l'ambiente naturale come a Venezia che è immersa in uno degli ecosistemi più delicati e più particolari d'Europa, che è la laguna di Venezia, e poi anche per un benessere che si prova qui all'interno del tipo di relazioni sociali che a Venezia si riescono a instaurare e che non ho trovato altrove, almeno nelle mie girovagazioni da millennials. Ecco, ci vuoi dire anche un po' il tuo percorso di studio che hai fatto? Sì, io sono laureata in filosofia, in scienze filosofiche, e ho studiato a Venezia, ho fatto un Erasmus di un anno a Berlino e dopodiché ho vinto una borsa di dottorato all'Università di Trieste, un dottorato in materie umanistiche, cioè storia delle società, delle istituzioni e del pensiero e il mio progetto di dottorato è stato appunto quello di analizzare lo spopolamento di Venezia nel corso del Novecento, cioè come la città storica abbia perso all'incirca i due terzi dei suoi residenti in pochi anni, in pochi decenni, ed è trattato di un progetto diciamo particolare perché coniugava due discipline diverse che sono la storia, l'analisi storica dei dati, dei numeri, dei processi e l'analisi etnografica. Infatti il mio percorso diciamo dalla filosofia si è sempre più spostato verso l'antropologia per un bisogno di concretezza, di analisi della società, anche della società che mi circondava e di comprensione di meccanismi profondi con cui questa società funziona e si muove. E quindi ecco il mio dottorato, ho conseguito il dottorato all'inizio del 2020 e dopodiché ho pubblicato questo libro che è l'esito della tesi di dottorato sostanzialmente rivista e rieditata a livello più comunicativo, più divulgativo. Non è il primo libro che tu hai pubblicato, no? Hai pubblicato anche un altro saggio, no? Ho pubblicato un altro saggio nel 2011, sempre per Unicopli, che è un saggio un po' più complicato, che appunto anche quello si muove tra filosofia e antropologia ed è dedicato a Ernesto De Martino, che è stato un grande antropologo italiano e appunto conosciuto solitamente solo per essere antropologo, in realtà il mio lavoro puntava a dimostrare, un po' a spiegare anche il suo pensiero filosofico, assimilandolo, avvicinandolo a quello di Martin Heidegger, con cui De Martino era in comunicazione profonda. Quindi questo è stato il mio lavoro precedente. All'interno di questo percorso, insomma di questo interesse anche per l'antropologia, oltre che per la filosofia, tu avevi anche fatto dei viaggi, mi pare uno anche in Africa, no? Sì, prima di occuparmi di turismo in maniera critica e di mettere in qualche modo in discussione la mia mobilità personale, ho viaggiato come molte persone della mia età nel privilegiato occidente e ho fatto delle esperienze di volontariato, quella in Africa ancora nel 2011, in Kenya, qui ho collaborato con un'associazione che si occupava di promozione dell'educazione sanitaria e della cultura infantile nelle baraccopoli di Nairobi e poi un progetto invece più rurale sulla piantumazione di papaya in un piccolo villaggio, insomma, del Kenya sempre. E è stata un'esperienza molto profonda, poi ho studiato un po', diciamo, le lingue europee, quindi ho fatto vari soggiorni tra Parigi, Londra, Berlino, Berlino soprattutto dove ho vissuto un po' più di un anno. Ok, quindi il tuo interesse poi ultimamente si è andato molto spostando su quelli che sono i fenomeni collegati con il turismo, no? Nel tentativo anche di contrastare quella che è un'idea o un'ideologia dominante, insomma, che i problemi delle città o anche dei paesi si risolvono semplicemente incrementando il fenomeno del turismo, insomma, cioè la monocultura turistica. Ecco, cioè hai fatto dei lavori, degli studi, insomma, ti sei interessata, delle conferenze, non lo so, ma ti sei interessata di questo fenomeno, insomma, cioè delle controindicazioni al turismo, insomma, di non vederlo soltanto come un fenomeno che sia la soluzione di tutti i mali del mondo o di alcuni paesi. È così? È così, diciamo che non avrei mai pensato nella vita di studiare e approfondire l'industria turistica, però appunto scegliendo Venezia come mia città mi sono trovata letteralmente immersa e quindi ho deciso un po' di prendere di petto le contraddizioni che vedevo, di provare a capire da dove provenivano e cercare di creare degli strumenti con cui magari impostare il dibattito pubblico generale in maniera un po' diversa. Diciamo che oggi in Italia, ma non solo, il turismo è considerato già a partire dagli anni Ottanta il petrolio d'Italia, che era la grande dottrina craxiana, per cui il patrimonio culturale, storico, artistico, geografico dei luoghi viene messo a valore attraverso l'industria turistica, diventa una risorsa da estrarre, il turismo è un'industria estrattiva, proprio come quella delle materie prime, perché si estrae una risorsa, un valore che è già presente nel territorio e lo si vende, lo si mette sul mercato. Però quello che si estrae con la materia siamo anche noi, sono le nostre città, quindi i nostri luoghi di vita, le nostre tradizioni, gli aspetti della nostra cultura, la nostra enogastronomia, qualsiasi cosa diventa una merce. Chiaramente quando la nostra cultura e i nostri luoghi di vita diventano merci, il loro uso da parte nostra inevitabilmente cambia, perché molto spesso un uso è una, diciamo, l'uso entra in diretta competizione con la mercificazione delle cose, perché chi non può accedere al valore di mercato di questi beni ne viene escluso. quando invece appunto il valore, l'importanza, il ruolo delle città e dei luoghi, dei territori in generale è sempre stato quello di ospitare, di dare ospitalità, di dare casa, di dare vita alle comunità, comprese le persone che non hanno un potere economico tale da poter accedere a beni altrimenti esclusivi. Pertanto sì, diciamo che oggi in Italia il dibattito è molto arretrato e molto povero sul turismo, nel senso che sostanzialmente uno sguardo critico quasi non esiste, o purtroppo è ancora molto molto di nicchia e siamo veramente un gruppetto di persone, tra ricercatori, attivisti, intellettuali, che si occupano in maniera problematica del turismo. In Italia ci conosciamo tutti, collaboriamo spesso, perché sia a livello mediatico che a livello istituzionale politico, che a livello di istruzione, quindi istituzioni informative, eccetera, eccetera, lo sguardo sul turismo è sempre quello di una risorsa, per cui il turismo può avere delle derive, va controllato, va gestito, ma in linea di massima è qualcosa che va promosso, va difeso, e lo vediamo con il Covid, perché l'industria turistica è stata ovviamente molto danneggiata, ma è stata anche fortemente sovvenzionata, è stata esentata dal pagamento di imposte, è stata risarcita, insomma c'è un sostegno molto forte da anni del settore pubblico al settore turistico, e un investimento che evidentemente sono fondi che vanno a quel settore a scapito di altri settori, perché come sappiamo bene non è che i fondi siano infiniti. Quindi c'è una scelta politica di promuovere questo sistema economico, perché? Perché negli ultimi 10-15 anni il turismo è l'unico settore dell'economia italiana in crescita praticamente, cresce all'incirca del 7% all'anno, mentre tutti gli altri settori dell'economia italiana sono in stagnazione o in netta recessione. E quindi chiaramente, essendo un settore che tira, è quello che porta avanti la nostra economia. Oggi copre in Italia all'incirca il 13% del PIL e il 14% dell'occupazione, per cui sono dati molto molto alti, ed è una scelta che si sta perseguendo. Cosa c'è di problematico in questa scelta? C'è che il turismo, come ogni industria estrattiva, crea dei problemi. E questi problemi sono diversi, non so se adesso devo entrare. E' importante capire, cioè dare anche un'idea, forse a chi ci ascolta, di quali sono i problemi, perché, come dire, noi pensiamo io stesso, magari sei portato a pensare soltanto ai vantaggi, e spesso fai fatica a renderti conto invece del prezzo che bisogna pagare per avere questi vantaggi. E se sono poi dei vantaggi reali che sono possibili poi proiettare nel futuro, cioè essere stabilizzati. Allora, proviamo così. Le cose di positive che si dicono sul turismo sono solitamente, innanzitutto, che porta a denaro. Un denaro facile e un denaro rapido. E' vero? Allora, è vero che un investimento in questo settore garantisce un ritorno di profitto notevole. Ma a chi va questo profitto? Il settore turistico è un settore che conta su una, diciamo, si basa su una struttura molto gerarchica delle posizioni lavorative, per cui ci sono vertici concentrati, grandi imprese, imprese dell'ospitalità, tour operator, trasporti, compagnie aeree, che gestiscono, diciamo, il grosso, che ricevono il grosso del valore generato da questo settore, da questi viaggi. Però poi il turismo si basa su, diciamo, innanzitutto richiede forti investimenti pubblici, in termini di marketing promozionale dei luoghi, in termini di, pensiamo solo al lavoro stagionale, su cui si basa prevalentemente il turismo, e sappiamo che i lavoratori stagionali hanno un contratto di una durata mediamente di sei mesi, gli altri sei mesi questi lavoratori li paga lo Stato, li paghiamo noi sostanzialmente, perché vivono in disoccupazione fino alla stagione dopo. Quindi il turismo genera lavoro, altra grande retorica, ma che lavoro genera? Abbiamo il dovere di chiedercelo, perché il turismo è un settore a basso valore aggiunto. Cosa vuol dire? Che lavoro che genera? È un lavoro sottoqualificato, un lavoro precario, e un lavoro che si basa su, appunto, ritmi stagionali, che impiega mano d'opera che è considerata intercambiabile, quindi sono situazioni in cui ci sono meno tutele sui licenziamenti, spesso le persone che lavorano lavorano in nero, il turismo è uno dei settori con il più alto tasso di lavoro in nero, e quindi sono persone che non hanno sussidi in caso di malattia, o in caso di non hanno coperture assicurative, e sono settori in cui c'è un alto tasso di occupazione femminile, ma è un'occupazione, diciamo, di lavori molto umili, non so se un intero paese vuole veramente investire in un settore che prevede sostanzialmente lavori di tipo servile, assolutamente dignitosi, però chiaramente quando si sceglie come e dove allocare le risorse pubbliche per sviluppare un'economia, si spererebbe che il progetto fosse più, diciamo, ambizioso di quello di diventare quello che Lefebvre, Lefebvre negli anni 70 chiamava l'uasir d'Europa, cioè questi paesi del sud Europa che trasformano Spagna, Grecia, Portogallo, Italia, che trasformano le loro economie in economie ricettive, cioè si fanno teatro dell'ospitalità e delle vacanze e del piacere delle invece popolazioni più ricche del centro e nord Europa. Questo è un processo che è cominciato già negli anni 70 e che oggi è ai massimi livelli, ma è una coincidenza che questi paesi siano i cosiddetti pigs, quelli che venivano definiti pigs, quindi i paesi che hanno delle economie molto povere, pensiamo alla Grecia, al Portogallo, alla Spagna, noi stessi, siamo economie che si vanno impoverendo e che hanno investito tutto sul turismo. Che sia una coincidenza questa, non direi proprio, e lo si vede nei piccoli casi, penso alla Spagna, le regioni più turistiche della Spagna, come le Baleari, per esempio, sono tra le regioni più povere della Spagna, con tassi di disoccupazione più alti rispetto al resto della Spagna, con tassi di povertà molto più alti rispetto alla media nazionale. Quindi l'economia turistica non genera ricchezza, o sì, la genera, ma per i pochi che possono accentrare i redditi e agli altri lasciano sostanzialmente gli scarti di un'economia assolutamente precaria, che è un'economia fragile, perché tutti hanno sempre pensato a Venezia, come in altri luoghi turistici, che il turismo poiché cresce mediamente di un 7-10% all'anno dagli anni 50, quindi le curve di crescita del turismo sono enormi e continue. Tutti hanno sempre pensato che è un settore sicurissimo, che diciamo non avrebbe potuto conoscere crisi e che anzi si sarebbe ampliato con l'aggiunta delle classi medie cinesi, indiane, dei paesi in via di sviluppo che acquisivano la possibilità di viaggiare e in realtà però abbiamo visto che basta una crisi sanitaria, bastano problemi di tipo ambientale, pensate allo tsunami che ha investito sud-est asiatico e ha bloccato i flussi turistici per almeno un paio d'anni e ha fatto collassare intere economie, sono economie fragili che dipendono da condizioni storiche, ambientali e sanitarie che non sono per niente scontate e questo l'abbiamo sperimentato tutti e lo stiamo vivendo ancora oggi. ok, diciamo qui un po' si può inserire anche il libro che hai scritto e quest'ultima cosa che è uscita anche da poco insomma e che io ho letto insomma non l'ho posseduto fisicamente ma ho avuto la possibilità di leggerlo almeno in pdf e che a me è piaciuto molto insomma anche perché è un libro molto documentato insomma vedo che ci sono pagine e pagine di bibliografia insomma e quindi tutti i libri che hanno una sostanziosa bibliografia vuol dire che sono cose studiate pensate e documentate insomma che non è poco ma oltre a questo insomma c'è stata anche una testimonianza di un veneziano doc insomma che ha vissuto a Venezia per tanti anni e che insomma si è riconosciuto perfettamente nell'immagine che tu hai dato della Venezia quella più tradizionale più storica insomma quella prima della trasformazione che è avvenuta con questa esplosione del turismo e quindi con i cambiamenti che si sono verificati bene ci vuoi introdurre un pochino per capire un po' questo libro lo spirito con cui l'hai scritto e anche le conclusioni con cui sei arrivata ok allora lo spirito con cui l'ho scritto era diciamo quello di allora sostanzialmente il mio lavoro doveva essere una ricerca su appunto sul turismo e in particolare sulla turistificazione cosiddetta di Venezia cioè su come Venezia è diventata una destinazione turistica e come mai diciamo è considerata l'esempio peggiore del mondo sostanzialmente per mancata gestione dell'industria turistica e volevo partire da qui e volevo indagare come i veneziani quei pochi rimasti parliamo ormai di poco più di 51.000 persone che abitano nel pesciolino cioè nella città d'acqua di come vivessero questi animali rari ormai in via d'estinzione tra cui mi tra cui mi conto però appunto cominciando la ricerca mi sono accorta che che dovevo andare più indietro cioè che soffermarmi sull'attualità sul presente era importante perché perché di fatto i veneziani li vedete sempre nelle interviste dei giornali dei documentari però raramente gli viene data la possibilità di interpretare in profondità quello che hanno vissuto in questi anni che è un profondo cambiamento del loro luogo e anche un profondo cambiamento delle loro relazioni sociali relazioni amicali o anche solo familiari e al che diciamo mi sono interrogata sullo spopolamento della città cioè sul perché questa comunità sia oggi così ridotta così esigua e ho cercato del materiale per comprendere meglio questo fenomeno e mi sono accorta con enorme stupore che di fatto nonostante su venezia ci siano innumerevoli libri però dello spopolamento non c'era nessuno studio completo cioè c'erano tanti saggi tante riflessioni articoli ma niente che ricostruisse davvero questo processo che invece è alla base della città contemporanea quindi senza lo spopolamento progressivo della città non si può capire cosa è oggi Venezia sostanzialmente allora ho cercato di colmare come potevo questo gap per cui nel mio libro ci sono questi due piani paralleli c'è questa analisi storica appunto sullo spopolamento sulle sue origini lontane nel tempo e sulle sue varie fasi e poi c'è invece il contemporaneo cioè l'esito di questo spopolamento e come oggi si vive in una città sostanzialmente svuotata ecco adesso però ci dice anche qualcosa insomma intanto come si intitola questo libro che non l'hai ancora detto insomma possiamo vedere almeno le copertine allora si intitola La bonifica umana Venezia dall'esido al turismo e in copertina ci sono ho scelto come foto una foto di un grande fotografo veneziano che è insomma poco conosciuto che si chiama Sergio del Pero e rappresenta i volti dei bambini e figli degli appunto immigrati dalla città storica verso la terraferma per gli anni 60 e 70 e il titolo è La bonifica umana che è una scelta un po' forte per un titolo di saggistica ma è una citazione in realtà testuale viene da delle parole che pronunciò nel 1935 in consiglio comunale Vittorio Cini che è stato uno dei grandi protagonisti della vita politica veneziana del novecento insomma che rimane nella memoria molto conosciuto nella memoria anche contemporanea e lui appunto diceva che per risolvere il problema i problemi di Venezia era necessario questo già negli anni 30 creare una emigrazione della popolazione dalla città storica quella che lui chiamava insomma bonifica umana testualmente e l'idea era appunto condivisa dalle classi dirigenti siamo in piena epoca fascista e l'idea è quella di bonificare cioè ripulire la città storica da diciamo dai ceti popolari dal sottoproletariato dalle classi operaie che la affollavano e sostanzialmente inducendole a emigrare verso la terraferma che veniva costruita proprio in quegli anni perché ci sembra impossibile però in realtà all'inizio del novecento e fino agli anni settanta Venezia era una città povera una città in cui all'incirca cinquantamila persone erano l'attuale popolazione di Venezia tra l'altro erano assistite con gli aiuti alimentari dalle varie associazioni religiose caritatevoli in cui c'erano le stalle in centro storico in cui le condizioni di abitabilità erano drammatiche c'era un grande sovraffollamento stiamo parlando di una città che contava tra i centoventi e i centosettantamila abitanti a seconda delle fasi Venezia nel cinquantuno contava centosettantacinquemila abitanti per cui stiamo parlando di una città che era in Italia tra le prime cinque per popolazione e quindi una città che aveva delle problematiche anche di tensione sociale di conflitto molto molto elevate questo si comincia nel novecento soprattutto in epoca fascista a capire che questi equilibri sociali vanno modificati se si vuole sfruttare al meglio le potenzialità di Venezia se si vuole in qualche modo e per Venezia intendo la Venezia insulare se si vuole farne qualcosa di più da cui si può estrarre un valore maggiore qualcosa di cui approfittare al meglio e per cui questo è un vero proprio processo di bonifica della città storica dalle classi sostanzialmente popolari che la abitavano ok poi sappiamo che tu poi diciamo conosci Venezia anche in profondità insomma io sono stato anche colpito da come tu parlavi insomma dell'equilibrio della laguna di tutto quello che succede per come sono costruite le case a Venezia insomma cosa succede con i vari moti delle ondosi cosa succede insomma tutta una serie di cosa succede della fauna com'è questo equilibrio delicato che è l'equilibrio lagunare insomma e come anche i fenomeni umani modificano e rischiano di distruggere questo delicato equilibrio insomma tu lo conosci molto bene dal profondo ho avvertito non te lo faccio ripetere qui ma magari lo diciamo perché se qualcuno volesse avere un'idea approfondita insomma di quelli che sono questi equilibri delicati insomma che riguardano la vita nel suo insieme a Venezia insomma in questo ambiente molto particolare molto delicato ma anche unico insomma da questo punto di vista avevo l'impressione che tu sei un esperto insomma può avere molte informazioni da te a parte questo veniamo invece al presente insomma anche a un altro problema di cui tu sei occupata mi pare insomma le motonavi le grandi navi che il turismo che è portato da queste da queste entità questa domanda mi viene anche perché così ho sentito recentemente i telegiornali insomma che c'era uno sciopero in atto o perlomeno un movimento che riguardava credo qualcosa come 1400 operai lavoratori che lavorano nel settore delle grandi navi e quindi c'era legata al covid una disoccupazione oppure una minaccia all'occupazione di queste grande fetta di popolazione veneziana che lavora proprio con le grandi navi e così come la vedi la cosa nel senso cosa si dovrebbe fare insomma per potersi guardare questo tipo di lavoro e oppure è un lavoro che va salvaguardato ad ogni costo o che insomma in qualche modo dovrebbe essere non dico sacrificato ma bisogna pur fare delle scelte insomma e quindi spostare questi lavoratori in un altro settore insomma come la vedi no? è ovviamente un discorso complesso diciamo che le grandi navi risentono tutte le contraddizioni dell'industria turistica cioè sostanzialmente dipendiamo e viviamo grazie a un'industria che di fatto minaccia le nostre stesse condizioni di esistenza nel senso che mette a rischio la nostra salute e il nostro proprio la tutela fisica del nostro luogo di vita e questo è particolarmente evidente con le grandi navi a cui si deve una responsabilità dell'elevatissimo tasso di inquinamento soprattutto di PM insomma di nanoparticolati di PM10 che c'è a Venezia e nonostante Venezia non abbia le automobili però è una delle città più inquinate d'Italia e che è controintuitivo ma certamente legato alla presenza di questi mostri che stazionano con i motori accesi per garantire tutto l'apparato di bordo nel porto all'interno della città lì accanto abitano persone ci sono le case popolari di Santa Marta e quindi la situazione di convivenza con ricordiamo che il porto di Venezia la stazione marittima è inserita all'interno della città per cui non c'è neanche un distacco fisico e in più venivamo da svariati incidenti connessi a questo tipo di imbarcazioni che sono ricordiamo imbarcazioni enormi che sono sproporzionate anche rispetto all'altezza degli edifici della città che non superano gli otto piani mentre questi sono condomini gallegzanti con altezze spropositate e hanno creano tutta una serie di danni che sono stati studiati e dimostrati scientificamente ormai da svariati anni sul fondo lagunare sull'idrodinamica lagunare sulle fondamenta e l'anno scorso abbiamo avuto un incidente molto grave per cui una di queste navi si è schiantata contro la fondamenta contro l'equivalente di una strada veneziana e si è rischiata una catastrofe che è stata sfiorata per un pelo e quindi sono navi che sono assolutamente incompatibili con un fondale basso e una diciamo delicatezza strutturale fisica della città che attraversano e il problema a livello diciamo dopo il naufragio nel 2012 della Costa Concordia che ha un po' sollevato in Italia l'isola del Giglio che ha un po' sollevato in Italia il dibattito critico sulle grandi navi e diciamo si è creato un polverone mediatico per cui le grandi navi si chiedeva che venissero escluse dal transito davanti al bacino di San Marco e che quindi insomma nel canale della Giudecca che per i non veneziani costeggia luoghi vissuti centralissimi della città di Venezia e si chiedeva sostanzialmente un percorso alternativo e ci sono state varie ipotesi insomma dal 2012 che si va avanti in una situazione provvisoria che ha del definitivo e non si trova sostanzialmente una soluzione a questo problema si vuole salvaguardare questa economia a tutti i costi ma cosa allora cosa penso io io penso io sono per l'opzione zero senza senza dubbio non credo nell'ipotesi di un porto offshore cioè di un porto fuori dalla laguna che porti i croceristi dentro la città con altre navi generando moto ondoso traffico altro inquinamento e non sono per un percorso alternativo all'interno della laguna che richiede scavi che intralza il traffico commerciale che porta l'inquinamento all'interno della città penso che insomma l'industria si debba adeguare alla realtà fisica del luogo venezia non è in grado di ospitare questo tipo di strutture fisiche e non è in grado di ospitare la massa di turisti che queste navi generano cioè le grandi navi hanno anche un impatto antropico oltre che tutti gli altri impatti che hanno ovvero portano migliaia di turisti contemporaneamente negli stessi giorni nelle stesse ore nelle stesse parti della città è un'industria è una fabbrica quindi è un turismo di bassissimo livello un turismo che sta in città mediamente una mezza giornata e che lavora solamente fanno magari alcuni un giro in gondola tutti in carovana in gruppi visitano gli stessi tre posti risalgono sulle navi il loro centro è la nave non è la città che visitano la città è uno sfondo che attraversano sostanzialmente quindi stiamo parlando di una realtà a Venezia fragile che ha problemi a limitare il turismo di massa che sta cercando soluzioni almeno a livello retorico in realtà poi l'amministrazione vuole incrementare il turismo questo è molto chiaro però sta cercando ipoteticamente delle soluzioni al turismo di massa e continua a far venire il crocerismo che è uno dei settori più deleteri che ha degli impatti più devastanti sui territori che attraversa e quindi lo trovo assolutamente insensato credo che ci siano tutte le ragioni del mondo perché la croceristica sia esclusa da Venezia e si fa il nome di Trieste devo dire mi dispiace molto per Trieste non sono tra i veneziani che gode perché questo flagello viene trasferito sulle spalle altrui credo che anzi come veneziani dovremmo dare seriamente una mano a Trieste che è ancora una città dove gli affitti sono accessibili e che ha una vita vissuta popolare all'interno insomma anche vicino alla zona del porto del mare penso che vadano aiutati i triestini a capire perché il crocerismo è problematico e perché non è un'industria che va accolta e per quanto riguarda la manifestazione chiaramente diciamo intanto calcolare il numero degli occupati diretti o indiretti esclusivi del crocerismo è sempre complicato perché diciamo non è detto che le aziende che forniscono le grandi navi operino esclusivamente per le grandi navi alcune probabilmente come quelle che producono derrate alimentari o altri servizi sopravviverebbero anche con altre con altri tipi di clientela quindi non è detto che siano lavori esclusivi a protestare sono state le categorie direttamente interessate stiamo parlando di 1400 persone ok a Venezia ci sono circa 50.000 posti di lavoro chiaramente non possiamo per 1400 persone mettere a rischio tutta la sopravvivenza stessa della città la salute dei suoi cittadini e la dignità della sua economia per cui credo che sinceramente sia un bilancio che che va fatto chiaramente sinceramente nella manifestazione che è stata fatta oltre ai sindaci che ai candidati sindaci sia quello del PD che era presente che quello l'attuale che ha vinto Brugnaro quindi sul sostegno al crocerismo al di là della retorica c'era abbastanza trasversalità tra i partiti politici erano presenti persone diciamo che non sono disagiate c'erano gondolieri c'erano tassisti c'erano i titolari dei lancioni che sono queste navi che trasportano 300 turisti al colpo facendo delle onde mostruose devastando la laguna qui stiamo parlando di categorie con redditi elevatissimi che non hanno certo problemi di sussistenza nel caso che venga a mancare il crocerismo e penso che bisogna scegliere fare delle scelte politiche molto forti e nel caso di Venezia mi pare sia evidente che il crocerismo non è compatibile con la città si può portare nel porto si possono portare per esempio le barche a vela perché c'è un settore velistico anche della vela del lusso ma non solo molto sviluppato nel mondo si potrebbe creare un polo nautico di un altro tipo con imbarcazioni assolutamente compatibili con la laguna generando economia e mantenendo posti di lavoro magari anche posti di lavoro più decenti non a chiamata come sono quelli delle hostess delle grandi navi e di tutte le cooperative che lavorano con tempi contratti a tempo determinato rinnovabili di anno in anno con contratti assolutamente precari e quindi non è anche neanche un tipo di lavoro che va salvaguardato insomma il discorso è sempre lo stesso stiamo mettendo a rischio le cose le nostre risorse reali non riproducibili per generare lavori precari che generano profitti enormi per pochi perché ricordo che il porto di Venezia la gestione è stata privatizzata ed è al momento posseduta dalle compagnie croceristiche stesse cioè le crociere per stare a Venezia pagano dei soldi e pagano se stesse sostanzialmente quindi la città non ha nessun il porto di Venezia non ha nessun utile dalla presenza delle grandi navi l'utile del porto ritorna alle grandi navi è un loop un circolo vizioso mostruoso per cui veramente la città ci perde e basta ok va bene insomma mi pare che possiamo avvicinarsi anche alla conclusione di questo incontro magari con il proposito di farne un'altra perché vuoi fare un altro incontro con te insomma nel senso che sei una miniera no? cioè sulle grandi navi sarebbe da fare cioè è un tema talmente grande che non inevitabilmente bisogna stringere un'anima no voglio dire poi l'ultima cosa insomma il discorso della crisi che in questo momento ci sta investendo causa covid ma poteva essere anche qualcos'altro insomma comunque è una crisi che è scoppiata e che ci porta a pensare di ripartire ma diciamo dobbiamo pensare che non possiamo ripartire nello stesso modo con cui eravamo presenti prima insomma no? cioè non possiamo riprendere esattamente la stessa economia alla quale eravamo abituati perché sappiamo che non ci porta da nessuna parte insomma ci porta semmai a come dire a una distruzione del pianeta e quindi ad un'autodistruzione rispetto a questo insomma cioè la crisi però è sempre un'occasione di cambiamento di trasformazione ci sono delle cose che una crisi salva e che valorizza e delle cose che invece delle altre attività o delle altre cose che una crisi invece dovrebbe in qualche modo sacrificare insomma perché non funzionano più nel tempo attuale insomma allora come la crisi attuale dovrebbe diciamo intervenire nel nel settore turistico mi spiego meglio cioè cosa bisogna fare di quelle attività che in qualche modo non non funzionano più bisogna continuare a sovvenzionarle oppure essendo per lo più delle attività private e quindi come dire il privato sa che si mette a rischio quando intraprende no e quindi non sarebbe giusto che come quando tu apri un negozio e questo negozio non funziona per vari motivi al di là del covid insomma lo chiudi e ci rimetti quello che ha investito perché hai sbagliato investimento così quando in realtà anche delle attività in qualche modo si trovano a non essere più competitive si trovano a non avere più clienti è giusto che chiudano e che in qualche modo l'investimento che è stato fatto non ricada sulle spalle di tutti come non ricade sulle spalle di tutti se io apro un negozio e questo negozio a un certo punto non funziona più ci rimetto io l'investimento c'è poco da fare insomma nelle attività cioè se si vuole una liberalizzazione insomma delle cose se si vuole che allora penso che non sia giusto che lo Stato o perlomeno io non lo trovo giusto insomma che lo Stato deve intervenire nei confronti del privato quando il privato non funziona che invece il privato si voglia godere tutti i profitti quando le cose gli vanno bene insomma e non voglia lo Stato in quell'occasione tu cosa ne pensi? sono molto d'accordo ma di fatto è la contraddizione del libero mercato cioè il libero mercato viene sostanzialmente difeso quando entra in collisione con diritti fondamentali sociali e umani dicendo che il libero mercato è sacro e che la concorrenza è l'unico criterio di selezione possibile però poi nella realtà il libero mercato non esiste cioè il libero mercato è frutto la nostra economia le nostre economie sono frutto di sussidi pensiamo ai sussidi europei all'agricoltura parliamo di centinaia di miliardi di euro ogni anno che vengono dati per sostenere settori piuttosto che altri chiaramente si ripudia a livello retorico l'intervento del settore pubblico dei governi nella diciamo gestione nell'indirizzo dell'economia però di fatto gli utili privati sono molto spesso frutto di investimenti condizioni legislative o fiscali favorevoli che vengono approvate dai governi quindi diciamo sostanzialmente adesso quello che è successo è proprio questo se il turismo è sempre stato favorito perché il mercato perché garantiva più redditi rispetto più profitti rispetto alle altre forme economiche quindi era più concorrenziale adesso però è il momento in cui il turismo o l'industria turistica dovrebbe ridimensionarsi proprio perché è cresciuta ipertroficamente è una bolla che è scoppiata e oggi quel tipo di attività dovrebbero riconvertirsi invece cosa succede che lo Stato li sonvenziona li protegge molto più di quanto protegge le persone di quanto protegge i lavoratori in nero dell'industria turistica che non ricevono né disoccupazione né cassa integrazione né nessun tipo di assistenza in questo momento mentre invece i titolari delle imprese degli alberghi dei ristoranti ricevono sostegni ma questo penso che l'esempio fosse più chiaro di questo sia nelle locazioni turistiche c'è i bed and breakfast anche se non sono veramente bed and breakfast che a Venezia hanno spopolato e praticamente loro hanno avuto la possibilità adesso di non pagare gli affitti durante i mesi in cui hanno dovuto chiudere a causa covid e sostanzialmente quelli però erano appartamenti che sarebbero potuti tornare sul mercato magari a prezzi più bassi e quindi potrebbero avrebbero potuto tornare ad essere accessibili a fasce di popolazione che non possono più permettersi l'affitto in città proprio perché la concorrenza delle locazioni turistiche è assolutamente fuori portata e invece lo Stato cosa fa? Lo Stato continua ad aiutare e proteggere questi settori e queste economie e chiaramente così facendo blocca le alternative e impedisce che le alternative possano germogliare e possano svilupparsi a Venezia i ristoranti e i bar sono cresciuti del 425% negli ultimi pochi anni per cui voglio dire c'è un livello a causa insomma con il decreto Bersani e le liberalizzazioni delle licenze ciascuno ogni negozio che chiude ogni vecchio negozio di vicinato di abbigliamento di servizi che chiude diventa un bar o un ristorante così è stato negli ultimi dieci anni chiaramente con 50.000 residenti migliaia di bar non hanno nessun senso hanno senso se ci sono 30 milioni di visitatori all'anno che consumano eccetera eccetera ma chiaramente non sono sostenibili né utili per il tessuto urbano della città e ad oggi stanno sopravvivendo durante il covid solamente i negozi e le attività basate sui residenti e quindi sostanzialmente sarebbe veramente il momento in cui altre forme di economia potrebbero aprire altre forme di economia che finora sono state schiacciate lo Stato invece di aiutare queste nuove forme di economia ad esempio ipotizzando dei sussidi dei finanziamenti per chi converte la propria attività da bar a negozio di vicinato da negozio di souvenir a negozio di che ne so qualsiasi altra cosa minimamente utile alla vita su questo pianeta ovviamente l'economia e il tessuto commerciale di servizi della città potrebbe riattivarsi invece lo Stato cosa fa niente sostanzialmente incentiva la monocultura la protegge e aspetta che passino le difficoltà come gli impianti sciistici stesso discorso il grande tormentone sugli impianti sciistici chiaramente sarebbe l'opportunità per destinare quei fondi che vengono dati agli impianti sciistici per mantenersi aperti nonostante non nevichi più da nessuna parte e lo Stato spenda milioni di euro di sovvenzionamenti pubblici per innevare con l'acqua artificiale con un consumo di acqua mostruoso nelle montagne in cui fa troppo caldo e non si può più sciare ma per tutto questo sostanzialmente si destinano fondi che invece potrebbero essere dati ai gestori degli impianti perché convertano quel tipo di economia industriale massiva che produce danni sui territori in altre forme economiche sono scelte ma abbiamo una classe politica assolutamente cieca e per niente lungimirante purtroppo ritornando solo un attimo al tuo libro per quanto tempo cioè in che percentuale l'industria del bed and breakfast è presente rispetto all'industria cioè rispetto alla residenza private insomma alla residenza della gente cioè quanto incide in percentuale quanto incidono i bed and breakfast in percentuale a Venezia Allora diciamo che Venezia ha al momento diciamo in tutto la città storica ci sono 59 49 mila posti letto e 51 mila residenti per capirci quindi il rapporto è di uno a uno cioè c'è un posto letto per ogni residente che è una percentuale fuori da ogni insomma immaginazione nel senso è una percentuale assolutamente spropositata e la capacità e la capacità di ricetta privata della città è andata aumentando fortissimamente e su questi posti letto il 56% è fornito quindi la maggioranza è fornito da posti letto in abitazioni private cioè le cosiddette locazioni turistiche quindi vuol dire più che dagli alberghi per cui diciamo che ormai la gran parte della capacità la maggioranza della ricettività della capacità ricettiva della città è offerta dalle case della città ovviamente sono case che non possono più ospitare le persone perché si dice affitto una stanza ma in realtà e continuo a vivere in una casa ma non è così perché in realtà più dell'80% delle case affittate su portali come Airbnb sono case esclusivamente destinate alla locazione turistica in cui non abita nessuno e prevalentemente si tratta poi di agenzie immobiliari che gestiscono questo business a proposito di poche persone che concentrano la maggior parte dei profitti a Venezia il 5% degli host cioè dei gestori di bed and breakfast concentra il 32% del reddito generato dalla piattaforma Airbnb in città quindi c'è ed è una percentuale che sta aumentando quindi si va verso un monopolio un controllo sempre più accentrato della ricettività cittadina per cui utili che anziché essere diffusi come vuole la retorica delle piattaforme vengono sempre più concentrati nelle mani di pochi creando anche lì lavoro precario lavoro nero pulizie con orari insomma improponibili e in condizioni assolutamente non protette non tutelate bene poi volevo anche che ricordassi che nel tuo libro c'è anche tutta una parte iniziale insomma in cui fa un po' di storia di Venezia di come è stata di come si è arrivati alla Venezia di adesso a partire dal dal Settecento insomma mi pare una cosa bella e interessante da leggere per me è stata molto utile nel libro si parto dalla caduta della Serenissima con cui alla fine del Settecento con cui scompare un mondo che era durato evolvendosi ma per molti molti secoli e appunto da quella caduta in maniera abbastanza breve abbastanza concentrata cerco di tracciare delle linee evolutive per poi comunque focalizzarmi sulla seconda metà del Novecento però in questa parte analizzo come è stata trasformata fisicamente la città quindi perché Venezia sembra immobile sembra quella di mille anni fa ma in realtà è stata modificata fortissimamente e anche come sono cambiate proprio le modalità di vivere la città l'economia della città e e anche come diciamo un po' il mio centro il focus della mia analisi sono sempre le classi popolari per cui la mia analisi proprio cerca di capire come nei secoli si siano si è cambiato il modo di vivere e la possibilità di vivere la città storica da parte delle classi popolari quindi come siano state dislocate come si siano spostate e e come poi sostanzialmente si sia arrivati ad avere una città spopolata e sostanzialmente in cui una persona che ha un reddito medio basso non può più permettersi di vivere bene io mi fermerei qua perché altrimenti forse rischiamo di stancare la pazienza di chi ci ascolta anche se la cosa per me è molto interessante e spero che sia interessante anche per chi ci ascolta insomma beh ci ricordi il titolo del tuo libro ce lo mostri ancora un attimo perché ci dici anche che qualcosa dell'editore insomma no perché non è un libro di self publishing insomma è un libro che viene dai tipi del allora il libro si chiama ripeto la bonifica umana Venezia dall'esodo al turismo ed è edito da Unicopi che è una casa editrice di Milano che ha ormai tanti tanti anni che si occupa prevalentemente di saggistica va bene allora grazie e alla prossima magari insomma magari vediamo di fare un'altra un altro piccolo incontro su su un altro tema che potrebbe essere per esempio quello dell'industria del bread del bread oddio vediamo bread and breakfast bread and breakfast ecco ciao grazie ciao